SONO 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 Allora io sono Spieber Gorsei e sono il vostro regista, presentatemi. Ma questo parla di neve? Ma che attori ho? Allora, c'è questo film in cui si tratta di una rapina e la rapina parte dall'idea che questi due fratelli, uno dirigente della banca, l'altro dirigente di un'azienda di tappeti, litigano e praticamente l'altro, quello dell'azienda di tappeti, decide di interrubare la banca del fratello. Chi vuole fare il fratello dirigente della banca? Io, 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 allora vediamo ladro di Boston, chi lo vuole fare? Facci, va bene, questo film sarà un disastro, non ne sono sicuro, questi qua non sanno fare gli attori, sarà un disastro, azione! Ma questo è uno schifo, è uno schifo questa ripresa, dobbiamo cambiare attori! Chiamate l'appuranza! Eh sì, ma chiamala te, guarda quanto sangue, poverino! Oh, ma che cavolo, avete finito di far casino con quel calcino? Azione! Questa è la storia di me. Moriremo tutti! No! Eccala, anche questi sbagliano film, tu sei l'investigatore! Ma che attori scarsi, ma proprio! No, ma no, no, questo film non vede neanche in un cinema o... E continuare con le tre, perché a meno che non lo trascorniamo in un film per me. Aspetta che mi sintonizzo sul mandarino. Cosa? Una rapina? Andiamo! Benissimo, teniamo questa! Primo po' uscirò da prigione! Aspetta! Ho detto prima o poi uscirò da prigione e non mi acchiappierete più! Sì, l'ho presa, le mutande da quei cuori, stai tranquilla! Sì, lo porto fuori, Flacco! E' veramente stato il fratello cattivo! Oh, dove pensavi di andare? Tutte compliche! Stai zitto! Allora, volevo fare un discorso e ringraziarvi tutti per aver partecipato a questo bel film. Allora, volevo fare un discorso! Allora, volevo fare un discorso!